Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora in questo video faremo un back to school sui nostri make up, quindi ci truccheremo insieme a voi e faremo vedere un trucco per andare a scuola, abbastanza easy. Anche se per qualcuno magari può sembrare troppo per andare a scuola così, ovviamente togliete l'eyeliner e diventa molto più semplice. Noi abbiamo cercato un po' di aggiungere anche l'eyeliner perché tutte le volte ci diciamo come fate a mettere l'eyeliner così abbiamo fatto un po' l'occasione. Mentre ci trucchiamo e facciamo vedere anche i prodotti che usiamo. Quindi niente, vi lasciamo subito al video. Per prima cosa noi iniziamo con l'eyeliner, iniziamo prima dagli occhi e poi facciamo la base perché possiamo sbagliare, quindi se dobbiamo fare prima la base e poi iniziare a togliere e togliere, iniziamo a fare un casino. E poi anche perché se tipo andiamo a mettere un po' di ombretto così, se cade abbiamo sempre il modo di togliere e fare poi la base. Abbiamo acceso un po' più di luce così si vede meglio. Magari siamo più bianchi però... E adesso mettiamo eyeliner. È sempre uno step molto difficile da far vedere perché ci dobbiamo avvicinare allo specchio. Vi facciamo vedere come lo mettiamo. Allora abbiamo due modi diversi per metterlo perché abbiamo una forma degli occhi diversa. Tipo io lo devo fare più dritto, dritto e mesionati o fa verso il sud. Devo dire che io nel tempo ho sempre modificato il mio eyeliner. Cioè Camille, io veramente a volte ho fatto certi eyeliner che, facendo prima dell'estate, mi facevo l'eyeliner alto così. Non so perché. Non era bruttissimo, ma io non lo facevo così. Oppure prima lo facevo passare anche sopra, ma adesso mi piace l'occhio più allungato, quindi sopra non passa. Innanzitutto, la riga. Quindi, lo faccio molto lungo la riga. Cioè, va così sul sopracciglio a me. Vabbè, ma è normale. Quindi Matti l'ha fatto così, io più così. Comunque io di solito vado dalla fine appunto dell'occhio fino a dove finisce il sopracciglio. Quindi, cioè, la mia linea si basa alla fine del sopracciglio. E poi a questo punto prendete il punto più alto dell'occhio, cioè questo, e lo unite alla lineetta. Ovviamente non deve arrivare fino in fondo, perché sennò non vi viene la riguetta fine, ma vi viene rossa. Infatti, non fino in fondo, ma un pezzetto indietro. Vabbè, magari anche a noi, anche se ci viene bene, ci stiamo comunque un po' a farlo, perché, vabbè, non sempre può venire al primo colpo. Ok, allora, abbiamo finito di mettere l'eyeliner. Come l'eyeliner abbiamo usato questo. questo qua della Essence. Sì. Diciamo anche i prodotti che usiamo. Mi raccomando questo, non quello waterproof, perché non mi piace. Esatto. E questo è il risultato per ora. Adesso passiamo alle ciglia e per le ciglia utilizziamo, prima di tutto, un mascara trasparente, che non è più trasparente. Vabbè, vabbè, si è tipo sporcato, perché noi lo mettiamo, poi magari abbiamo messo l'eyeliner. Ci va un po' di nero con le ciglia e poi diventa nero. Comunque non è importante, perché tanto dopo andiamo a mettere il mascara, quindi non ci interessa. In realtà, questo qui è un prodotto sempre della Essence. Infatti, cioè, se lo andate a cercare così non lo trovate. Lo trovate trasparente. È trasparente. È sia per le ciglia che per le sopracciglia. Infatti, per le sopracciglia deve essere per forza trasparente. Quindi, vabbè, noi per le sopracciglia... E via. Adesso facciamo una passata di questo. E questo serve per, tipo, iniziare a separarle prima di mettere il mascara. Ok, dopo averlo messo aspettiamo un attimo che, tipo, si asciughi. Vanno asciugati perché dopo facciamo il piegaciglia. Ovviamente va riscaldato, quindi ci serve anche l'accendino. Accendino, o che sia? Lo riscaldiamo un po'. Cioè, noi ci stiamo un paio di secondi. Poi magari riuscirà. Aspettiamo che si ghiacci. Ovviamente, se volete fare un trucco più semplice per la scuola, magari siete alle medie, evitate l'eyeliner, mettete... cioè, partire dallo step dopo e mettete soltanto il mascara. Noi facciamo un trucco più completo per dare un via generale a tutti. Il calore serve, appunto, per piegarle meglio perché senza calore è come proprio piegarle con la forza. Cioè, non so come piegarle. Tipo, il calore è come se fosse un po' una piastra. Infatti, dopo un po', all'inizio sono più belle, poi dopo un po' iniziano a calare, purtroppo. Cioè, tipo, adesso metteremo il mascara e io avrò le ciglia in su e poi niente, tra un po' le ciglia non si andranno più. Comunque sì, ho una mano fatta e l'altra no, perché non ho avuto tempo. Strano. No, invece io, fate proprio caso, ho delle unghie, boh. Ti avevo provato a fare le unghie con la base rosa, che sarebbe la base semplice del gel, con sopra i basci. Cioè, lo stampo del rossetto. Quindi ti dovevi mettere te il rossetto rosso, perché l'ho visto TikTok. E facevi lo stampo, solo che è venuto un po' di fila. Questa mano è decente, ma quest'altra è venuto malissimo. Cioè, che cos'è? Eh, perché tipo... Perché poi quando ho messo un lucido, mi si è... Troppo... Troppo prodotto c'era. Invece doveva essere proprio poco. Poi, ovviamente, non avevo voglia di rifare subito di nuovo le unghie, perché l'avevo appena fatte. Cioè, ho messo anche un'eternità per fare questo. E niente, sono rimasta per un mese con le unghie brutte, quindi questo mese non le ho mai postate. Io invece le ho affine fatte. E adesso devo fare le unghie per Halloween, le voglio fare come mati, col pencere. Parentesi delle unghie. Queste sono le ciglia, ovviamente, naturali. Voglio rifare di nuovo la laminazione, perché la laminazione aiutava tanto. Passiamo al prossimo step, ovvero il mascara. Noi utilizziamo questo della Pupa, Pupa Vamp. Comunque i nostri prodotti sono molto easy, low cost. Adesso facciamo un time lapse, se no ci siamo tanto. E poi facciamo vedere alla fine. Ok, allora, per fare le ciglia più rite, più alzate, io faccio una prima passata di mascara semplice, cioè non è che ne vado a mettere tanto. Poi faccio l'altro occhio, e nel frattempo aspetto che questo occhio si asciuga. Quando si è tipo un po' asciugata la mascara, faccio ancora un'altra passata. Quindi, più passate fate, però vabbè, ovviamente si sa da girare, se no poi ci verranno. Adesso faccio l'altro occhio, e dopo li passo sui molti due. Invece li ho fatti entrambi, quindi aspetto un attimo, e lo ripasso a quanto pare. Hai finito il mascara? Sì. Ok, io sono una più lenta, ovviamente faccio l'eyeliner e tutto con il doppio del tempo, non so perché. E adesso faccio la seconda passata di mascara, mentre il male è finito. Quindi aspetto. Ho nel frattempo idrato un po' la pelle. Io vado un attimo avanti, vabbè, idrato la pelle, perché abbiamo finito gli occhi, quindi passiamo alla base. E vado a usare una semplice crema Nivea. Vado a metterla ovunque, ovviamente, perché, cioè vi giuro che quando io non facevo questo step, la qualità della pelle cambia. se saltate lo step del contorno occhi, praticamente la pelle, essendo comunque secca, crea tipo i grumi, comunque si vedono più imperfezioni. Invece così, con la crema, andate un po' a pareggiare il tutto. Allora, noi per correttore utilizziamo questi, che sono quelli tipici della Maybelline, che avrete visto ovunque, ma sono bellissimi, cioè costano poco, e fanno i miracoli. Noi comunque, cioè, perché ne soffriamo gli occhiai, però comunque, avendo la pelle chiara, si vede subito quando abbiamo lo scuro sotto gli occhi. Soprattutto quando non siamo abbronzate. Esatto. Adesso siamo abbronzate. Voi direte, no, mi vedo bianchissime. C'è proprio la luce puntata in faccia bianca. Però vabbè, un goccio, abbiamo sempre l'abbronzatura, in parte c'è andata via. Infatti abbiamo il correttore numero due, quindi ci sentiamo soddisfatti. Cioè, noi, quest'estate soprattutto, si utilizzava il numero uno, e si vedeva troppo contrasto, ed era brutto. Noi utilizziamo questo, un po' come, ovviamente, il correttore, e poi se c'è qualche imperfezione, si va a destra e a sinistra, quindi deve mantenere comunque il colore della pelle. Quindi abbiamo preso il numero due, tutte soddisfatte, e abbiamo sempre il numero uno, ma non lo usiamo, perché adesso il due, per adesso, non siamo ancora. No, il due comunque ci sta bene ancora. Però iniziamo a vedere le differenze. Una piccola differenza, che iniziamo a vincarci troppo. Di noi, quando ci si trucca così, ci si mette anche il contouring, che è scurissimo, raga, ma appena tipo hai finito di abbronzarti, questo non ci faceva tanta differenza all'estate. Vabbè, bravo, la soddisfazione. Comunque una cosa che non ho detto, io oltre a starci il doppio del tempo di mano, per fare mascara, io vi sporco pure, la palpebra, quindi mi rischio così. Però perché stiamo più pazienti. Comunque per fare questo video, abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque luci accese puntate addosso, quindi se è fatta qualcosa, è normale. Ok, ho messo anche la crema, e adesso possiamo mettere il collettore. Il collettore vado a fare un po' così io, a mezzo l'alto, a mezzo l'alto. Così, lo mettiamo un po' qua, la parte politica, e un po' qua. E non mi va. Vedete, infatti adesso c'è un po' di differenza, però vabbè, mi farò una lampada e recupero. E io lo vado a mettere anche nei punti in cui, lo metto di solito. Io, mamma, ti vedo così. Ti credo. Dai, c'è la piastra. E dicono di aspettare un pochino, prima di andare a sfumare, non fate come mia sorella, perché lei è sempre in Italia, quindi appena fuori. No, è vero, no, però è vero, vabbè, ogniuno c'è la sua tecnica, però se mantieni un po', per un minutino così, il correttore, si sente. E comunque a volte, quando mettiamo il correttore e lo sfumiamo, può capitare che, vabbè, una volta lo metto un po' di meno, insomma, dipende. Se continuiamo a vedere che non è proprio coperto, lo facciamo tipo una seconda passata. Comunque la cosa che abbiamo spruzzato, perché noi, si sa più scontato, è acqua. Sopra la spugnetta, perché stende il prodotto più omogeneamente. Fice così? Carissima. E a scuola si arriva, dove ha l'altro? Muoio. Allora, anche se c'è un po', un pochino di differenza, comunque abbiamo la cipria, numero uno. E diciamo che un po' si rimedia mettendo questa. Aspetta. Aspetta. Beh, forse ce ne è un po'. Non per se prenderla, io ho già detto tutto lo step. Via, gli faccio fare questa parte, perché non vedeva l'ora. Quel cosigno così. Vai. Anch'io c'ho... Guarda, mi ha scippato la mia! Lei l'ha rotta! Lei l'ha rotta! Guardate, non c'è più... Non è che l'ha rotta. Sì. Adesso mettiamo la cipria numero uno. Numero uno. Vabbè, comunque seriamente utilizziamo la cipria di L'Oreal. Io che voglio fixare l'unghia, la cipria di L'Oreal. Alcuna parte di scherzi. Questa. Avevamo anche il bronzer della L'Oreal, però ci è finito, quindi dobbiamo andare a ricomprare, però di solito il bronzer si utilizza l'inverno quando siamo bianche cadavere. Ma io ecco perché mi vedo qualcosa di scuro qui. Oh, un po' di scuro. Vedi? Ok, sono a posto adesso. Allora, adesso siamo arrivati a questo punto. Siamo praticamente giunti alla conclusione. Ci mancano giusto due cosette semplici, molto fast, perché non c'è più tempo. Vabbè, aspettate che allora, ce ne abbiamo uno. Ho perso l'altro, boh, sarà caduto. Comunque perché vuole dare un po' più di colore alla pelle se tipo è più inverno o è più bianco, non lo so, io di solito metto il blush, cioè il blush è proprio la fine del mondo. Lei non lo usa, invece per me il blush è essenziale. Comunque vabbè, in questo caso il blush non lo metto. Passiamo all'ultimo step che è il gloss. Usiamo questo gloss che non è proprio rosa, alla fine diciamo che è trasparentino, rosa. E niente, è della Kiko ed è un volumizzante, quindi leggermente pizzica, ma leggermente l'ho già provato. Io no. Non come quelli di Too Faced. Fanno i miei labbra lunghi. Ne abbiamo soltanto uno. A me sembra più fresco. Non mi sembra più pizzicante, più fresco invece. Quindi niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se è così mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Seguiteci su Instagram, questi sono i nostri IG, questo è il mio, questo è quello che abbiamo insieme, questo è quello di Kami. E pure su TikTok, questi sono i nostri due profili TikTok. Vi lasciamo alla fine del video, gli altri due video back to school che abbiamo fatto, ovvero quello della cancelleria e quello degli outfit. E niente, oggi abbiamo finito il video sul makeup. E abbiamo fatto anche uno così, tipo l'anno scorso. e quindi quest'anno abbiamo riproposto l'idea. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti